Nasce all'albo professionale dei circoli nautici la proposta di legge a firma dell'onorevole Francesco Picarone sarà presentata ad Agropoli il prossimo 23 giugno. L'evento esclusivo e primo del suo genere è ospitato dal circolo nautico a Canottieri e Agropoli. Appuntamento fissato questo mercoledì alle ore 18 con il patrocinio del comune alle porte del Cilento, la suggestiva piazza della Madonna di Costantinopoli nel centro storico accoglierà la manifestazione nel pieno rispetto delle normative imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19, una possibilità preziosa per favorire la realizzazione di iniziative per lo sviluppo della nautica di Diporto, delle infrastrutture costiere, del turismo di categoria e di tutte le attività economiche, produttive, sociali e culturali collegate. Per l'occasione verrà ufficializzata la neonata Associazione Circoli Nautici della Campania presieduta da Gianluigi Ascione.